Il voto amministrativo italiano mi pare essere sintonico al voto francese e al voto greco. Sostanzialmente è un voto che manifesta uno scarso gradimento rispetto a delle politiche di rigore senza crescita. Non è un caso che tutti i partiti che sostengono questo governo italiano hanno avuto una flessione più o meno sensibile. Evidentemente è inutile nasconderlo, la flessione più importante l'ha avuto il popolo della libertà. Non possiamo però anche non dire che si tratta di elezioni locali con notevole frammentazione, con moltissime liste civiche e che conseguentemente questo dato che è il primo che emerge necessita di una valutazione che a due ore dalla fine delle elezioni con i pochi dati a disposizione non può essere fatto in maniera seria. Per quello che riguarda la campagna, i dati acquisiti sono sostanzialmente la sconfitta a Pozzuoli. Non avevamo alcuna forma di ottimismo, sapevamo che negli ultimi quattro anni due sindaci del PDL erano caduti per questioni interne al PDL. Non posso altresì non ricordare che circa due o tre mesi fa si è immaginato di porre una discarica a quarto in pieno territorio di Pozzuoli con tutto quello che ne è conseguito. Il risultato di Pozzuoli è un risultato quindi sotto questo profilo già previsto, con notevole però soddisfazione notiamo che vi è la possibilità di ripartire anche a Pozzuoli, oltre che perché valutiamo questo voto come un voto dovuto alle ragioni che prima enunciavo, ma perché il nostro candidato, cioè Monaco, si posiziona, se i dati di cui sono in possesso sono corretti, sul 19% e mi sembra, come dire, in una situazione così complicata come Pozzuoli, sicuramente una cosa utile. Venendo adesso a parlare di quello che ad oggi risulta, dico che però confermiamo una vittoria molto forte ad Aversa, dai dati attuali dovremmo vincere Mondragone, che prima non era governata dal centrodestra, ci avviamo verso il ballottaggio ad Acerra, c'è possibilità di ballottaggio a Torre del Greco, c'è il ballottaggio a Volla, io credo che nel complesso il risultato che il popolo della libertà in Campania ha raggiunto non sia un risultato in sé negativo, non lo è o è comparato con le altre parti d'Italia. I nostri sindaci uscenti hanno avuto il loro gradimento e anche in taluni comuni, dove siamo stati sconfitti, penso a Casavatore, che da sempre è una roccaforte della sinistra, noi perdiamo circa il 5%, quindi per un ridotto numero di voti e questo credo che sia un riconoscimento, oltre che della presenza del partito, principalmente della bontà del candidato sindaco prescelto. Tutto questo, in attesa degli ulteriori dati e conseguentemente di una situazione in evoluzione che può cambiare, dimostra a mio avviso in modo inequivocabile quello che io ho sempre detto, e cioè che qui in Campania vi è un partito forte, un partito unito, un partito che ha lavorato bene, che è radicato sul territorio e non è un caso. Che qui si può parlare in taluni casi di vittoria, in taluni casi di disfatta, ma sicuramente non si può per la Campania esprimere il giudizio negativo che taluno, se ritiene, può esprimere fuori dalla Campania. Rispetto agli altri dati nazionali, la Campania e soprattutto la provincia di Napoli ha tenuto bene rispetto ai risultati, perché siamo riusciti a mantenere alcuni comuni che già governavamo, tranne chiaramente alcuni come Torre dei Grechi, che ancora non è ancora certo, purtroppo le vicissime sono state, non era certe tra quelli comuni che eravamo convinti di andare in ballottaggio o di vincere, però ritengo che abbiamo espugnato una roccaforte che è stata sempre una roccaforte della sinistra e poi abbiamo perso per una percentuale bassissima a Casavatore che pure ha ritenuto una delle roccaforte della sinistra. Ritengo che il risultato è soddisfacente e ritengo che il partito dimostra ancora di più di essere un partito comunque che c'è e che non è un partito che non è solo sulla carta, non è il solito partito di plastica, ma è un partito consolidato sul territorio. Comuni importanti li abbiamo riconquistati, Aversa, Sant'Antimo che sono comuni importanti, prendiamo dei nuovi Mondragone, siamo nettamente in vantaggio ad Acerra che è una roccaforte storica della sinistra e probabilmente la vittoria non ci sfuggirà, poi in tutti gli altri comuni i nostri sindaci vanno al ballottaggio, quindi non c'è quel voto di protesta, non c'è stata un'affermazione dei grillini e in una situazione difficile come quella che viviamo in questa regione, con un governo regionale che è la nostra vetrina, che in questi anni ha dovuto portare avanti una politica di rigore, di sacrifici e adesso deve puntare invece a sviluppare una politica di crescita, aver conseguito un risultato in queste amministrative di questo segno è evidente che ci indica uno stato di salute buono della PDL e del centro-destra. Se a questo poi si fa anche riferimento al fatto che l'Udc ha cambiato completamente alleanza rispetto a ieri e comunque non riescono ad abbatterci e a vincereci nonostante anche questo ulteriore contributo dell'Udc è evidente che qua è stato fatto un buon lavoro, si sta facendo un buon lavoro e se nella fase più critica riusciamo a mantenere, anzi ad acquisire nuovi consensi è evidente che quando poi le politiche di governo regionale saranno di segno opposto a quello del rigore e saranno di segno della crescita è evidente che nuovi e ulteriori consensi arriveranno per permetterci di continuare ad essere centrali e governanti in questa regione.